Musica Benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV, subito il santo del giorno, poi le previsioni del tempo e naturalmente i giornali. Oggi la chiesa ricorda San Claudio Martire, il sole è sorto alle 5.32, tramonterà alle 20.53, il cielo anche oggi si presenta sereno con temperature elevate, siamo già a 26 gradi alle 7.30 che aumenterà quindi fino ad arrivare a 33-34 gradi nella giornata di oggi. Oggi sarà una giornata serena o poco nuvolosa, vedete soltanto temporali di calore nei Sibillini, oggi bisognerebbe andare là un po' per rinfrescarsi per un po' d'acqua. Insomma, per il resto invece sarà una giornata di sole, sole e caldo, con temperature stazionare in lieve aumento, i venti saranno di brezza leggera o tesa, regime di brezza, il mare sarà quasi calmo, poco mosso. Per domani, domani mercoledì 8 di luglio, cielo sereno poco nuvoloso, temperature in aumento, venti di brezza tesa e il mare poco mosso. Per giovedì, ecco qua il cambiamento, il cambiamento tra l'altro annunciato, giovedì avremo cielo parzialmente nuvoloso nella prima parte della mattinata, con diminuzione della copertura, quindi delle nuvole dal pomeriggio e ritorno del cielo sereno. Nella prima parte della giornata, quindi al mattino, avremo rovescio temporali sparsi più probabili lungo la costa centro-settentrionale, quindi da Ancona verso la nostra provincia, quella di Pesaro e Urbino. Le temperature, per effetto anche della pioggia, ma soprattutto anche di questa aria un po' più fresca proveniente da nord, la temperatura, dicevo, diminuirà, anche se non tantissimo, ma comunque è già qualcosa. I venti saranno di brezza tesa settentrionali, con raffiche fino a vento fresco lungo la costa nel pomeriggio. Il mare sarà mosso, quindi si respirerà un po'. Indicazione poi di tempo stabile e soleggiato, almeno fino a metà della prossima settimana. Che cosa scrivono i giornali oggi? Anche oggi si concentrano in particolare sulle dichiarazioni di quel 37enne peruviano che domenica mattina all'alba, intorno alle 5.30, in Viale Gorizia, ha ucciso, tra volte ucciso con la sua auto, una BMW, una donna di 59 anni. Ora, dice attraverso il suo avvocato, sono dispiaciuto. Vediamo e cominciamo dal resto del Carlino, che scrive, Non mi sono fermato per paura, l'ho vista a terra e sono ripartito. Parla il peruviano investitore, ma quella notte dice, non ho bevuto. Ha visto la coppia, un cittadino ha visto la coppia, perché la coppia sarebbe il peruviano con la fidanzata, perché nella macchina c'era anche la fidanzata. La fidanzata diceva, fermati, fermati, torna indietro, fermati. Quindi in quel momento hanno litigato, un cittadino che a quell'ora era lì, ha scritto, ha annotato la targa, che poi ha girato subito alla polizia. Il mio assistito, dice il suo avvocato, il mio assistito è davvero affranto per l'accaduto, si è sottoposto al prelievo. Ed essendosi costituito a Montesilvano, in Abruzzo, è venuto meno il pericolo di fuga e l'ipotesi dell'arresto. Il 37enne, che ha escluso di aver bevuto quella notte, potrebbe aver avuto guai in passato per guida in stato di ebrezza. Intanto è ancora da stabilire la data dei funerali della donna, ma si ipotizza per domani mattina alle 10, nella chiesa di Santa Croce, in via Lubiana. La famiglia è in attesa del nulla osta del giudice. E sempre su questo argomento, su questa vicenda, c'è anche il messaggero che scrive ragazzo, segna la targa e fa scoprire il pirata. Stava rientrando a casa quando sulla statale ha annotato la BMW in fuga e dopo l'incidente mortale in via Legorizia, il comandante della polizia Galdenzi, dice un plauso al gesto del giovane di grande senso civico. Intanto il messaggero pubblica, ed è l'unico giornale, la foto di Patrizia del Bene, che è appunto la vittima, che è rimasta uccisa domenica mattina, e invece qui a fianco il luogo dell'incidente, dove qualcuno ha deposto un mazzo di fiori e una pianta. Questa è la pagina invece del messaggero. Mentre il Corriere Adriatico, anche qui viene data importanza a questo ragazzo che ha scritto e ha annotato la targa che ha portato diritti alla pirata, non aveva assistito all'incidente, ma era rimasto perplesso per la disperazione della giovane a bordo. Quindi non ha visto, di fatto, questo giovane non ha visto l'incidente, non era lì. Probabilmente si sono fermati più avanti e questo giovane ha visto questa ragazza disperata all'interno dell'auto. Quindi ha detto, beh, insomma, non si sa mai, è meglio scrivere la targa perché potrebbe essere utile. E poi, infatti, è tornata assolutamente utile. Sotto, anche qui, vedete, non mi sono fermato solo per paura, si è costituito il 37enne peruviano che era la guida della BMW, in auto con lui anche la fidanzata. Stasera nella chiesa di Santa Croce verrà recitato un rosario per Patrizia. Il caldo. Il caldo trova spazio nei telegiornali, trova spazio sui quotidiani, sui giornali e quant'altro perché si cerca, in qualche modo, di raccontare, ma questo lo facciamo ogni anno, come affrontare questa ondata di caldo. Caldo che sì, c'è, soprattutto l'AFA, che è quella che dà fastidio. La percentuale di umidità è quella che dà noia, perché altrimenti, voglio dire, sono temperature che a luglio sono anche, voglio dire, l'estate fa il suo mestiere, così come lo fa l'inverno. Quindi caldo, oggi sarà un martedì da leoni, forse batteremo il record di 55 anni fa. Nel 1950, infatti, si toccarono i 39,2 gradi, che non è la temperatura percepita, perché la temperatura percepita è tutti i giorni attorno ai 40 gradi, ma quella reale. Quindi, se davvero toccheremo i 39,2 gradi, batteremo il record del 1950. La canicola proseguirà questo caldo, perché, come abbiamo detto e visto, giovedì ci sarà questo momentaneo raffreddamento, momentaneo le temperature caleranno un po', ma poi si ristabilirà l'anticiclone e quindi il caldo tornerà. La cosa importante, qui vedete, hanno i colleghi del giornale intervistato, ho cercato di capire un po' nei negozi di elettronica come andava la vendita dei ventilatori, per esempio, o dei condizionatori. E Marco Simoncelli dice il condizionatore, questo è importante, va acceso quando non si è sudati, altrimenti si rischia il malore e non è uno scherzo. Quindi, insomma, anche in macchina, secondo me, bisognerebbe, soprattutto quando si entra e si ci sono queste ondate di calore, un po' come quando si apre il forno di casa e uno, sopra pensiero, non ci pensa, apre e viene colpito, tra virgolette, da questa ondata di calore. Bisogna stare attenti e dare il tempo al tempo prima di entrare in auto, accendere l'aria condizionata e quant'altro. Così come nelle case, la stessa cosa. Breve sosta, dicevo, domani, poi si rimonta con l'anticiclone. A Pesaro muore tra le braccia della compagna. Paolo Vero, maestro di musica corale, si è accasciato esanime. L'autopsia chiarirà le cause. Paolo Vero, 57 anni, residente in via Pepe a Pantano a Pesaro, insieme alla compagna, da quanto si è appreso, la donna, intorno alle 9 del mattino, ha chiamato il 118, parlando di un grave malore che aveva colpito il compagno. I sanitari hanno provato poi a rianimare l'uomo, ma si è rivelato tutto inutile. Ancora, dal resto del Carlino, sotto rubava carta igienica al comando, vigile urbano denunciato, un vigile urbano in servizio al comando di Pesaro è stato denunciato per furto, non rubava nulla di prezioso, però più utile sì, perché era carta igienica. Adesso il vigile è sempre in servizio, ma per il suo bene, scrive il giornale, in attesa del processo, sarà opportuno che stia lontano dal magazzino. Ieri il giornale bolognese ha pubblicato sulla pagina di Fano la notizia dell'aggressione del cane a una bambina che è venuta in acqua. Ebbene, oggi il giornale torna su questo argomento e lo fa ascoltando un po' di persone, un po' di pareri. Cani in spiaggia, il problema non è il cane, ma è il padrone. Dopo l'episodio di domenica è polemica. Giusto portare gli animali al mare? Bella domanda. E qui si apre un mondo, ma bisogna stare attenti perché i talebani ci sono non solo per quello che riguarda la religione, ma ci sono anche per quello che riguarda gli animali. Quindi bisogna stare attenti a come si parla, come si risponde, eccetera, eccetera. Quindi, è giusto portare gli animali al mare? Questa è la domanda. Bisognerebbe adesso leggere e avere le risposte per capire l'aria che tira. Bisogna individuare intanto un arenile, un pezzo di spiaggia adatto e tenere conto di tutte le esigenze. Vero. Poi, che sia il problema, il padrone, non lo so. Questo io non sono un esperto, bisognerà capire. Cerca di suicidarsi perché crede di aver perso il posto di lavoro. È la storia di un fanese, un fanese di 50 anni, impiegato pubblico. aveva scritto un biglietto con una birra, una penna blu. Questo mio gesto, ha scritto, è la conseguenza della decisione del mio capo. Chiedo scusa a tutti, ma questa vita non è la mia. E poi, si era seduto sul posto di guida, dove aveva attaccato al tubo di scappamento un pezzo di gomma che portava l'aria, i fumi di scarico, all'interno dell'abitacolo. Quindi sarebbe di lì a poco morto, poi però per fortuna è stato salvato. Tutti i dettagli sul giornale. Mentre purtroppo è ancora grave la ragazzina di 13 anni, senegalese, che l'altro giorno faceva il bagno nella piscina condominiale a Ponte Sasso e purtroppo è ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili. Speriamo davvero che possa riprendersi. Si trova in prognosi riservata ancora nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Fano. Mentre a centropagina, sempre sul Carlino, outlet a rischio tutta l'operazione e dopo sei anni i privati chiedono chiarezza e minacciano ritorsioni. Sulla pagina di Fano c'è spazio anche per le polemiche sulla notte rosa. La notte del vicino è sempre più rosa. La polemica di Progetto Fano che critica un po' come sono andate le cose a Fano e l'ha definita non tanto una notte rosa ma una notte rosa pallido, non proprio un rosa acceso. Così Aramis Gerbatini e Alberto Santorelli, consiglieri di minoranza di Progetto Fano, definiscono la prima partecipazione della città di Fano all'evento che da nove anni caratterizza la stagione balneare della riviera romagnola. E allora la risposta sta qui, guardate, l'evidenzio di rosso. Ecco. Allora, definiscono, andiamo a vedere insieme, la prima partecipazione della città di Fano, eccolo qua, all'evento che da nove anni caratterizza cosa? La stagione balneare della riviera romagnola. Ora, non mi risulta che in piazza 20 settembre, a parte la fontana, ci sia il mare. Quindi è chiaro che nasce come evento balneare. Quando si fanno le forzature di qualunque genere, vengono sempre male. Quindi è chiaro che il centro storico è rosa pallido. E naturalmente, un rosa un po' più acceso, infatti le immagini lo dimostrano, un po' più acceso, era al mare. Perché la notte rosa è al mare. Il centro aveva già la sua notte dei saldi il giorno dopo, infatti la notte dei saldi è andata molto bene, quindi si poteva evitare di fare questa forzatura, fare la figuraccia, e uno lasciava la notte rosa al mare e il giorno dopo faceva la notte dei saldi. Però, siamo di coccio e al prossimo anno vedremo. Campo d'aviazione, il parco non decolla e i grillini sono delusi. Questa giunta è disponibile solo a parola. Andiamo velocemente perché è molto tardi. Allora, domani mattina, siamo sul Corriere Adriatico, domani mattina alla Pieve l'ultimo saluto a Giacomo Venturini, guardate questo bel giovane, di 25 anni, viso d'angelo, tre fratelli più piccoli, che amava profondamente. E questo giovane che si è ucciso domenica mattina alle 5 e mezzo, alle 5 e mezza del mattino, all'altezza di Via Bologna a Pesaro, buttandosi sotto un treno merci. Questa sera Giacomo verrà ricordato nella chiesa di Candelare, con un rosario, un momento per raccogliersi. Lo abbiamo fatto anche noi, sia per Giacomo che per Patrizia. Ieri, su Televoci Cristiana, alle 15, abbiamo pregato per queste due persone, lo faremo anche oggi. A Fano, sulla pagina del Corriere Adriatico, i commercianti bocciano la politica turistica, il Presidente Capecchi dice, tavoli di concertazione evaporati, errori strategici e iniziative asfittiche. Sempre dal Corriere, su Marotta, Outlet, la minoranza va in provincia, incontra Tagliolini e Domenicucci. Poi sotto, a Orciano, via al rifacimento della rete idrica. Da Pesaro, la notizia di cronache che abbiamo già visto, e poi il caldo sul messaggero, si prepara a battere tutti i record, mentre più sotto arriva il Presidente di Confindustria, Squinzi, che parteciperà questo pomeriggio all'incontro nella sede dell'ABS per i 70 anni dell'Associazione di Confindustria Pesarese. Poi la storia, la storia sul messaggero di un padre che a Orciano, un padre separato e senza un tetto, chiede aiuto al Sindaco e al Prefetto minacciando la protesta per un alloggio. La protesta è lo sciopero della fame per i figli e per una casa. L'Unione Inquilini dice, siamo in piena emergenza abitativa sempre più sfrattati si rivolgono a noi per essere assistiti. Chiudiamo con la pagina di Fano. Successo o un flop? Questa è la domanda che capeggia sul messaggero. Replica il Vice Sindaco Marcheggiani una città che non cambia muore, dice. Tenta di suicidarsi in auto salvato dai carabinieri, dissapori di lavoro alla base del gesto del cinquantenne. Ed è tutto, grazie per aver seguito la nostra segna stampa. Ci vediamo stasera alle 20 e 30 con occhio alla notizia e vi ricordo comunque che Faro TV segue il Papa nel suo viaggio in Ecuador con dirette, l'ultima è stata stanotte, la scorsa notte, alle 2 di notte, quindi avremo delle repliche comunque nel corso della giornata. Seguiteci e poi naturalmente la replica anche su Televoce Cristiana a partire dalle 21. È tutto, buona giornata davvero. Arrivederci. Grazie a tutti.